Noi siamo molto felici e siamo grati Emanuele Martinelli di Energia Media per aver voluto organizzare con noi presso a casa nostra l'evento di oggi. ABC è il gestore storico dell'acquedotto di Napoli lo gestisce da oltre 150 anni ma solamente da poco gestisce anche il comparto della fognatura di Napoli e tra poco si accinge a prendere in carico anche il comparto depurativo ed è proprio dall'aggregazione di questi sistemi, quindi nello spirito della norma che vuole aggregare e unificare il servizio idrico che se ne possono trarre infinite occasioni di vantaggio, di sinergia, di opportunità anche di collaborazione con le altre strutture territoriali, con i gestori di altri servizi di rete e una giornata di oggi in cui noi ospitiamo i gestori della rete elettrica, i gestori della rete gas i gestori della rete di fibra ottica, nasceranno sicuramente delle idee di collaborazione per fare pezzi di strada insieme, condividere investimenti, dividere costi e inventare opportunità